Perfino in tribuna è normale, personalmente uno si accetta tutto per l'amor di Dio, è un lavoro che va fatto così, però se uno dice che è contento di andare in tribuna dice una bugia. Quando sono rientrato ho cercato di dare sempre il massimo, sempre il mio contributo, poi se il mio contributo vuol dire anche, insomma, il mio ruolo lo richiede, quello di fare gol e gol importanti, ancora meglio. Ma io, forse sono riuscito come reparto a dare un po' più di, sia profondità, sia tenere la palla, forse ho fatto una partita un po' più completa rispetto ad altre, però secondo me sono stati dei primi tempi, dei secondi tempi, sono stati degli sprazzi dove abbiamo fatto e ho fatto delle cose molto molto belle quest'anno secondo me. Quindi io prendo i tre punti, mi prendo il gol, ora ho un giorno di tranquillità e poi da martedì si riparte.